Mister, quanto è importante questa vittoria per il Catania? Guarda, ti dico, importantissima, c'è stata una piccola delusione che nel rientrare negli spogliatoi le altre hanno vinto tutti, perché oggi veramente pensavo di aver fatto un grande salto in avanti, l'abbiamo fatto, però mi aspettavo dei risultati diversi dagli altri campi. Al di là di questo, le due vittorie di fila che abbiamo fatto con l'Avellino e stasera, ho ritrovato un po' la mia squadra sotto il profilo del gioco, sotto il profilo del temperamento, delle seconde palle e questo devo dire che è merito dei ragazzi, perché è come se si fossero tolti un tappo, noi non avevamo mai vinto fuori casa e fatto il primo gol le cose sono andate sempre un po' meglio, ha fatto la differenza anche un po' il vento, perché il primo tempo la palla è stata più in aria che giocata a pallatera, però insomma per noi era importante rincorrere le squadre che ci sono davanti, adesso in due punti da 38 a 40 ci sono sette squadre e noi giochiamo col Trapani la prossima in casa, quindi questa vittoria per arrivare, passami il termine, gasati a quella partita, la prestazione di stasera è stata importante. Ecco, una vittoria più per merito del Catania o per il demerito del Varese? Ma guarda, io penso per merito del Catania, perché comunque il Varese è una squadra compatta, non è facile gestire certe situazioni, ho visto la partita che hanno fatto a Modena, hanno fatto un'ottima gara, è ovvio che quando poi ti manca area, ti manca magari corti in mezzo al campo, ti manca davanti Neto Pereira e ti manca anche l'attaccante, miracoli, non è facile, io faccio l'allenatore e lo so cosa vuol dire quando c'è fuori i giocatori, diventa un campionato quasi diverso, però oggi noi forse ne abbiamo approfittato per queste assenze e ti dico la verità, non pensavo di vincere questa partita con un risultato così, però la determinazione che ho visto nella mia squadra mi è piaciuta, soprattutto sembra una stupidata perché abbiamo fatto gol tutti e tre gli attaccanti, quindi l'allenatore è felice, però io guardo la seconda palla, guardo la corsa, guardo i movimenti della difesa, guardo che due partite che non prendiamo gol, guardo che la personalità sta crescendo, anche il feeling palla al piede nella gestione della palla, mi è piaciuto di più stile le prime partite quando ero arrivato io, poi è andato tutto bene, la giornata giusta.